Starboost è un movimento imprenditoriale che nasce nel 2015, fatto da investitori, professionisti, advisor e imprenditori, che ha una base comune, una base valoriale dal quale tutto parte. Partiamo dai valori, dagli obiettivi del creare un mondo meritocratico, attraverso la creazione dello sviluppo di un sistema che in realtà aiuta il talento a valorizzarsi e ha il capitale di tutelarsi per fare imprenditori, aziende e ovviamente progetti, per teoricamente quello che piace a noi ma anche quello che piace ai nostri clienti e ai nostri partner. Se arriva una persona in Starboost ci sono due macro strade che può intraprendere, la prima è entrare dentro l'organizzazione, la seconda è sviluppare la propria idea, sono due strade molto diverse perché entrare dentro l'organizzazione in Starboost è un po' essere al servizio degli imprenditori e degli investitori, sia di capitali che di asset e quindi il nostro lavoro come manager Starboost è tutelare il talento, tutelare il capitale e valorizzare il talento. Ognuno di noi decide se stare nell'academy, nel company creator, quindi professionisti, advisor verticali che lavorano a livello consulenziale, proprio nel fare le cose e anche sporcandosi spesso e volentieri le mani, oppure nei veicoli teoricamente finanziari di accelerazione, di supporto e di far crescere l'iniziativa anche dal punto di vista finanziario. Se invece uno viene per fare la sua idea passa invece attraverso un altro percorso che è quello di fare la Starboost Academy. Noi continuiamo sempre a investire su tutti quelli che arrivano, dopodiché a quel punto se l'azienda ha i presupposti per stare sul mercato, ma ovviamente per essere finanziato, l'apriamo ad eventuali persone che hanno fatto investimenti con noi, magari in alcune iniziative e che conosciamo che magari possono essere interessati a quel determinato specifico settore, non solo mettendo capitale, perché poi quello che noi chiediamo ai nostri investitori è se metti capitale però devi metterci anche un po' di intelligenza, di network, di supporto, cioè noi abbiamo teoricamente persone che dovrebbero in un qualche modo aggiungere al capitale quel valore aggiunto per aiutare ovviamente l'impresa a crescere. Starboost nasce in realtà da una profonda consapevolezza e uno studio e ovviamente un utilizzo personale di un meccanismo socio-economico che è quello che noi tutti conosciamo, cioè il capitalismo. Io ho iniziato a fare impresa nel 2004 fondando Bacheca insieme ad altre persone fino ad arrivare nel 2011 con la Fulbright Scholarship a diventare un limited partner di un fondo di investimento che si chiama 500 Startups in America. Durante tutto questo percorso abbiamo in realtà imparato tante cose come gruppo ma anche come individui e quello che abbiamo scoperto è che il mondo stesso deve essere teoricamente evoluto su un meccanismo socio-economico che permetta al talento di venire fuori. Quindi Starboost è quello che dovrebbe essere secondo me il punto di vista di partenza, cioè il capitalismo che aiuta il talento a emergere pensando che il capitale diventi uno strumento e non un fine. Al momento noi abbiamo un problema serio dove in realtà vediamo la finanza che giustamente perché il suo obiettivo è quello di massimizzare i ritorni ha dimenticato un po' il motivo per il quale in realtà era stata fondata e stata creata. Oggi dobbiamo riportarla al centro. Riportare al centro l'uomo significa quindi cambiare il paradigma stesso economico, non facendo quello che ha fatto il comunismo né quello che ovviamente ha fatto il capitalismo, ma integrando delle parti di inclusione, dando spazio e forza al merito. Questo si fa attraverso il cambio della grammatica stessa sul quale le aziende nascono e crescono. I problemi di macroeconomia si risolvono nella microeconomia. Quello che noi facciamo quindi è trasformare il problema della macroeconomia in un modello che aiuta commercialisti, avvocati, notai, imprenditori, advisor e tutti gli altri persone che in realtà sviluppano le imprese a partire in un modo diverso. Ovviamente l'impatto sociale non si racconta attraverso dei grandi manifesti e assolutamente grandi pubblicità. Si fa perché se tu vai a cambiare la dinamica stessa del modello in cui le imprese nascono e crescono, non c'è bisogno di parlare di impatto sociale, lo stai già creando. E quello in realtà è collegato e assolutamente innestato in un processo di sviluppo della consapevolezza. Perché il fare imprenditore vuol dire essere consapevoli di quello che uno sta facendo, così come essere cittadini di un paese o di un mondo, di essere consapevoli. Quindi attraverso l'Academy, quindi la Starboost Academy che dà la formazione e dà la consapevolezza, l'iniziale approccio a quello che è un modo nuovo di fare impresa, il talento in realtà inizia a comprendere qual è il suo posto all'interno di un ecosistema complesso. Ovviamente quando sei giovane magari ti occupi di fare delle piccole cose, ma se sei messo nella condizione come il modello Starboost insegna di metterti in gioco e di crescere, magari anche un giovane può diventare in realtà il leader di un'azienda perché è lui che dà quella linfa e quella forza. Ma allo stesso tempo in una collaborazione cross generazionale e multidisciplinare lavora con delle persone più senior che possono aiutarlo e guidarlo attraverso la stessa grammatica di business. Quindi questo si riesce ad ottenere per esempio nella Starboost Academy dove senior, middle level e junior lavorano per creare le basi di consapevolezza di uno sviluppo imprenditoriale insieme. Ovviamente sapete che tutti i team non vanno bene sicuramente in modo molto facile e quindi c'è questo percorso dove tutti gli errori che si possono fare in post costituzione vengono fatti in pre costituzione. L'impatto sociale che questo crea è una riduzione teoricamente di uno spreco e un aumento della consapevolezza infinita perché non si sprecano soldi per costituire aziende, per chiuderle, per bruciare in realtà tutto quel capitale intellettuale che adesso viene assolutamente buttato all'ortico e su un sistema economico che ovviamente non va più bene. Quindi attraverso questo in realtà noi cerchiamo di diffondere questa consapevolezza facendo vivere le persone all'interno di un sistema che li possa permettere a evolvere. Quindi per esempio una delle cose che facciamo spesso vedere durante i corsi è la slide dove c'è Mark Zuckerberg solo al comando e tutta la gente che in realtà bicicletta alla mano porta il cibo a casa, quanti laureati, quanti persone di grande valore noi stiamo sprecando in un'economia dove gli possiamo dare solo la possibilità di portare del cibo a casa. Ecco questa cosa deve cambiare, deve cambiare ovviamente partendo dalla base fondamentale, quindi dal DNA stesso di come funziona Starboost e quindi l'economia stessa. Perché Starboost è partito in questo modo? Nel quindi creare un'academy per imprenditori e poi in realtà creare un pool di professionisti che li aiutano a sviluppare e ovviamente un pool di investitori che si chiamano tra virgolette Starseed che li aiuta a cofinanziare a T0 le iniziative, perché per cambiare il mondo c'è bisogno di un entry strategy di penetrazione, adesso è una parola un po' strana, anche inglese, ma che dice devo iniziare da qualche parte. Bene, iniziare da un'azienda già creata, già formata è molto complessa, infatti quell'impresa ormai è come un dinosauro che appartiene a un'era diversa. Quello che noi dobbiamo fare è creare delle imprese che in realtà sono specchio dei nostri tempi e come l'economia giustamente si era sviluppata all'inizio e si è ovviamente creato tutte le cose belle che noi abbiamo da oggi, adesso deve essere rinnovata, rinnovata profondamente, partendo dal DNA. Quindi Starboost cosa ha detto? Siccome l'obiettivo era creare un mondo meritocratico che in realtà è solo la base, perché poi quello che in realtà vogliamo davvero fare è dare potere alle persone di esprimersi e di crescere consapevolmente nello sviluppo dei loro carismi perché questo è il punto finale. Se tu prendi un giovane o meno giovane e gli dai la possibilità di svilupparsi secondo i loro carismi, in realtà lui nel tempo cambierà così come cambieranno le imprese e le sfide che lui affronterà e in quel caso l'economia sottostante sarà solo di supporto per far sì che lui possa in realtà evolvere in questo percorso. Quindi per risolvere questo problema ho dovuto studiare molti anni, ho dovuto creare molte imprese e ho dovuto capire cosa c'era dietro il velo. ovviamente il mio obiettivo allo stato attuale è mentre sviluppo le imprese teoricamente che mi fanno piacere creare, quindi un esempio potrebbe essere Planet se poi dopo volete vi approfondisco l'iniziativa, voglio aiutare gli altri a farlo nel modo in cui ho fatto io, perché io sono figlio di un insegnante, di un medico, adesso mi ritrovo a fare l'imprenditore e a creare imprese ad aiutare persone a sviluppare le proprie iniziative e paradossalmente anche per esempio fare smart cities in Brasile, in India, sviluppare progetti di social housing insieme a Planet, insieme a tanti altri miei soci e compagni di avventura che in realtà danno da vivere e da abitare a migliaia di persone. Ecco quello che vorrei condividere con le persone attraverso l'Academy, il Company Creator e Starseed è un modo nuovo di studiare e sviluppare idee imprenditoriali, applicarle e metterle a terra e creare concretezza e sviluppo e ovviamente finanziarle, perché anche da quel punto di vista dobbiamo fare un passo evolutivo molto importante, perché poi a livello finanziario questo metodo aiuta il talento a crescere, ma aiuta anche gli investitori a ottenere di più. Questa cosa per esempio noi la facciamo fra le nostre aziende, che per esempio io personalmente ho finanziato, dove creiamo con la condivisione degli asset delle nuove società, che partono con un valore incredibile, senza dover aver già fatto investimenti precedenti. È ovvio che questa cosa deve essere portata alla conoscenza e ovviamente alla formazione degli individui che maneggiano questa struttura sia di principi che ovviamente di contratti che di processi. Questo in realtà è parte della nostra missione, del nostro lavoro che non termina solo in Italia, perché poi noi vogliamo dare questa possibilità anche a quelli che lavorano all'estero, perché loro potrebbero essere ponte per le nostre imprese in modo più facile e in modo più veloce. Quindi se un'impresa italiana vuole svilupparsi per esempio, noi lavoriamo con lo stato di San Marino, abbiamo un team a San Marino, abbiamo un team in Spagna che è completamente allineata ed è molto più facile creare rapporti di accelerazione su imprese che devono entrare su mercati nuovi, perché partono da un DNA completamente diverso e partono da una piattaforma comune di valori, di struttura, di metodologia e di obiettivi. E quindi Startup sotto questo punto di vista ha deciso di partire dalle start up perché il progetto troppo grande, come tutti sanno, si raggiunge con tanto tempo, con tanta pazienza e con tante altre persone che ovviamente insieme a me e insieme a tutte le altre persone che appartengono al nostro gruppo vorranno entrare dentro questa nuova visione e condividere a loro volta e insegnare a loro volta per avere ovviamente una rete nuova economica e sociale. Il creare aziende di valore in realtà è una cosa divertente da vedere perché noi la vediamo da due lati. In realtà l'azienda di valore è l'azienda fatta di persone che condividono lo stesso why e che con quel why in realtà riescono a creare una storia di amicizia, di lavoro e di sostentamento dei propri bisogni fondamentali e allo stesso tempo del miglioramento della società civile nel quale loro operano e vivono. Però allo stesso tempo creare aziende di valore è anche un valore economico che piano piano, proprio grazie a questo percorso, si crea. Non si sa quale dei due valori sia più importanti, in realtà noi pensiamo che il primo sia il valore più importante, tale per cui infatti il nostro bilancio è assolutamente quasi un no profit. E quello è un altro controsenso che noi in realtà mettiamo in moto. Perché questo? Perché non è questione di produttività e di creazione di un valore monetario, ma è del valore che tramite la condivisione e il passaggio di know-how trasversale e cross-generazionale si mette in moto per un investimento che sarà a lungo termine. Starbust è una realtà particolare e molto complessa da vedere in realtà se tu la interpreti in maniera banale. Tu devi andare a vedere la storia del perché un'azienda nasce, cresce e si sviluppa e quali sono i tempi e i modi per farla. C'è un grande detto che dice che non ci vogliono 9 donne per fare un bambino in un mese, ci vuole 9 mesi per fare un bambino, a prescindere quella velocità non la puoi cambiare. Starbust, a differenza di Bacheca che ha messo 7 anni per arrivare a break even e quindi per arrivare alla profittabilità, oppure altre aziende che hanno scelto delle strade per esempio più veloci come Planet che vuole in realtà svilupparsi per poi andare in quotazione in borsa dopo aver raccolto tanti capitali. Starbust ha fatto l'opposto, ha fatto proprio il contrario. È un progetto molto lungo, quindi lavora con l'obiettivo di creare valore nei decenni. non ha fretta perché sa che poggia su solid basi valoriali da un team multidisciplinare cross generazionali che ha lo stesso why, il creare impresa di valore con imprenditori di talento. Questo obiettivo fatto con un DNA che non è altro che l'evoluzione del capitalismo perché mette capitali e asset e lavoro all'interno di una condivisione di un progetto che diventerà quando sarà maturo un'azienda, quindi avrà quote societari di quell'azienda suddivise tra i veri artifici del valore di quel successo e di quell'impresa. Cambierà l'approccio macroeconomico perché la ridistribuzione degli utili e dei ricavi di questa azienda sarà molto più trasversale su quelli che sono veramente gli artifici di sviluppo di quelle imprese. Questo cambia completamente il paradigma, è completamente diverso. Non è progetta la tua idea, trova gli investitori e poi sviluppano col capitale, è trova i tuoi soci, crea insieme il progetto e sviluppa la tua iniziativa nel modo corretto. È proprio l'opposto. Adesso tutto il mondo sta andando a cercare soldi, questi soldi, fantomatici soldi. Ma cosa vi servono i soldi se non a comprare teoricamente del tempo di una persona che in realtà te lo vende perché è interessata a quello? Tu invece devi coinvolgere le persone giuste, portarle all'interno di una cultura aziendale, sviluppare con lei qualcosa di più bello in modo tale che quando sarà il successo di quell'impresa non ti troverai tu solo al comando con il problema di avere i capitali in banca e tutti gli altri che dovranno o trovarsi un altro lavoro o comunque essere venduti al migliore offerente. Questo è il concetto stesso che secondo me l'Italia e il mondo dovrebbe iniziare a comprendere. Soprattutto quelle che sono in realtà le nostre istituzioni, le nostre università, i nostri professionisti. E per fare questo noi ovviamente facciamo i corsi sia alle persone che fanno i licei sia alle università. Abbiamo due corsi per esempio ufficiali al Politecnico di Torino, di Company Creator, all'Università di Scienze Gastronomiche, ci sono altre due università che ci stanno chiedendo di disegnare dei master per loro e noi gli portiamo tutto questo know-how, gli cerchiamo di formare i docenti per fargli capire che questo nuovo approccio può dare un contributo complementare alla formazione necessaria accademica che deve rimanere di altissimo livello e non deve teoricamente cambiare DNA. Perché poi il problema è che la nostra storia, l'università, la nostra storia culturale non deve piegarsi al mercato, è il contrario. È il mercato che deve essere funzionale allo sviluppo di una capacità intellettuale che noi ovviamente europei e italiani abbiamo estremamente sviluppata, data grazie da tantissimi anni e secoli di storia. Quindi questo passaggio poi porta ovviamente anche i professionisti, i notai a comprendere una dinamica nuova, ad adottarla perché anche loro devono conoscere queste nuove dinamiche per poi portarla alla fase successiva che sono ovviamente i grandi fondi che comprendendo la parcializzazione del rischio in veicoli più piccoli sviluppati con questo metodo gli permettono di ottenere a loro volta maggiori ritorni. In fondo questa è stata la storia di successo della mia vita, cioè ho dato tutto quel che avevo sempre a tutti per poter dare la possibilità di fare qualcosa e poi mi sono ritrovato a fare cose incredibili. Ma non con l'idea di dire è merito mio oppure prime pagine sui giornali o quello che in realtà il mass media ci racconta, perché poi non è vero. Cioè sì, non avessi avuto gli altri miei soci, non avessi avuto Gianni Savio, non avessi avuto Stefano Buono, non avessi avuto Paolo Gemola, non avessi avuto tutti quelli che in realtà sono stati un po' i miei maestri, i miei compagni, non sarei qua. E allo stesso tempo quello che ho imparato devo far sì che anche gli altri possano applicarlo, ma non a beneficio mio, a beneficio di un sistema che poi si auto-evolverà perché è destinato a cambiare, noi dobbiamo cambiare il sistema, ma per noi in primis. Starboost ha un team assolutamente variegato di tutti i tipi, è un paradosso, noi non siamo un'azienda strutturata con i dipendenti, noi siamo come fosse una nuvola, un cloud di persone che mettono tempo, lavoro, asset e capitali, a prescindere da quanti sono, in in una visione collettiva e comune, in più città italiane e ovviamente in alcuni paesi europei e le professionalità sono molte e anche l'età sono molte, il più giovane ha vent'anni e praticamente traduce tutto questo linguaggio un po' difficile che ogni tanto io faccio l'errore di perseguire in linguaggio che aiuta i liceali a capire il lavoro di team e il gioco di fare impresa con una visione che non è solamente legata a trovare il market fit, cioè trovare la domanda e l'offerta che si incontrano per mettere in moto il pagamento, ma è completamente diverso, fino ad arrivare al socio più anziano che ha 85 anni e che non ha idea di cosa stiamo facendo ma che ha finanziato inizialmente l'iniziativa sapendo che non avrebbe mai avuto ritorni economici perché in realtà i ritorni economici sono in medio e lungo termine. Dentro queste due età, 20-85, c'è un mondo di persone di tutti i generi, come un arcovaleno di colori, abbiamo notai, avvocati commercialisti, consulenti giuridici di impresa, abbiamo professionisti verticali, quindi persone che si occupano di HR, di marketing, di tecnologia, di video, produttori di film che con noi stanno costruendo una start up e portando alle aziende dei meccanismi di comunicazione di brand che sono non convenzionali. Diciamo che è come se fosse un gruppo di amici che teoricamente continuano a giocare nonostante avessero età diverse e professionalità diverse nel provare a sperimentare e a creare tra di loro e ovviamente con i clienti quello che è un po' oltre fare normalmente in un'economia tradizionale dove ognuno si specializza, vende un servizio, fa una commessa, manda la fattura. In una visione quindi collettiva molto ampia e molto allargata di permeabilità e di assolutamente cercare di coinvolgere tutte le professioni e tutti i ruoli ci sono dei team che si creano come fossero delle bolle che però non sono bolle staccate una all'altra perché poi i team si iniziano a intersecare con altri team a seconda delle iniziative che vengono sviluppate. Ogni organizzazione interna ha un team leader che coordina il lavoro all'interno e teoricamente segue un percorso condiviso generale. Quindi i team crescono così. C'è un team leader che prende l'incarico di sviluppare un progetto che viene descritto in dieci slide molto semplicemente con un si chiama profit sharing plan cioè un piano di profitto di condivisione fra le persone che lavorano dentro questo team. Poi questo team ovviamente segue la sua missione che per esempio facciamo un esempio concreto così tutti capiamo l'Academy, la Starboost Academy. La Starboost Academy nazionale è fatta di un team di dieci persone che lavora insieme per creare e condividere questo percorso. Da una parte la fa, dall'altra parte la insegna ad altri che la vogliono fare. Team leader coordina tutte le persone perché ci vuole la responsabile della grafica, del calendario, il docente, poi ci vogliono i professionisti, i mentori per poi portarli alla fase successiva, i progetti. E poi ovviamente l'insegnamento ai nuovi team leader. Chi sono i nuovi team leader? Sono dei team, per esempio a San Marino, in Spagna, per esempio a Madrid, a Novara, a Udine, a Verona, a Rimini che iniziano piano piano a trovare altri col quale giocare, col quale collaborare e col quale creare il gruppo fondatore. A questo punto cosa succede? Succede che il team centrale inizia a coordinare un altro team, per esempio ne abbiamo anche uno a Roma che parte, ma che parte da quello che è la sua specificità. Quindi a Roma stiamo partendo con i corsi di studio di avvocati commercialisti perché la persona è interessata a quella specificità. A San Marino invece, siccome abbiamo un notaio e avvocato, siamo partiti con unità locale, quindi con una struttura complessa dove dentro hai l'imprenditore, il docente, l'avvocato, il commercialista, il consulente, il direttore marchio responsabile della comunicazione, l'HR, il PR, il fundraiser, cioè queste sono le figure che sono lì dentro. Poi ovviamente però, siccome siamo una società aperta, queste figure collaborano a livello nazionale con l'Academy, ma allo stesso tempo a tutti i livelli, perché poi ovviamente l'importanza per esempio di lavorare con uno stato come quello di San Marino è metterlo in contatto con gli altri team leader spagnoli, italiani, inglesi, perché poi quella roba viene da un certo punto di vista disintermediata perché non è possibile scalare in un meccanismo tradizionale. Quindi la nostra struttura, e spero presto, non solo a magari avere delle persone al vertice più brave di me, non solo a organizzare, ma anche a comunicare, a spiegare, eccetera, si sta arricchendo di persone e professionalità che paradossalmente mi onora avere a bordo. Per esempio noi abbiamo una persona che è un commercialista, che è un imprenditore con un'esperienza molto più sviluppata della mia, che sta portando i corsi all'interno della sua città. In questo caso quelli che lavorano dentro Starboost hanno una fortuna sfortuna. Qual è la sfortuna? La sfortuna è che essendo un sistema nuovo devono prima impararlo, provarlo e vedere se gli piace, perché poi a molte persone non piace. A molte persone gli piace avere il suo capo, lavorare da solo, oppure lavorare da libero professionisti, oppure lavorare in un modo che gli permetta di massimizzare al massimo il suo tempo denaro, oppure non vogliono avere nessuna responsabilità. In Starboost è il contrario, quasi io mi prendo la responsabilità tua per insegnarti cosa c'è oltre e tu decidi fin dove vuoi fermarti, fino a dove vuoi fermarti nell'evoluzione. Vuoi andare avanti? Guarda, ti do questo progetto che ho nel cassetto che tanto se non ci fosse un team leader rimarrebbe lì. E' per fortuna che ho incontrato te, ti va? E' il contrario, non fai le fotocopie per 45 giorni e poi dopo ti faccio fare la grafica del packaging, no? Sì, dobbiamo fare le fotocopie, ma nel frattempo ti va di trasformare questo corso in un corso per il designer? Dai, prova! La storia, per esempio, di un nostro stegista che viene dal Politecnico di Torino e al quale noi teoricamente abbiamo cercato di dargli la responsabilità di un amministratore delegato, però senza bruciarlo, per vedere se ovviamente lui aveva la forza e l'interesse di guardare oltre. Infatti l'evoluzione di questo stage l'ha portato a non solo collaborare, ma allo stesso tempo iscriversi in un'altra università andando a complementare le competenze e la conoscenza imparata dal Politecnico di Torino con una competenza e una conoscenza di una laurea in economia e commercio per far sì che poi quel percorso si completi nel capire cosa davvero vuole. Quindi è un po' come la scuola montessoriana, no? Cioè noi in un qualche modo stiamo cercando di creare un approccio completamente diverso sia nel modo di lavorare che nella gestione del team. E quindi la risposta è molto difficile da darti perché ho persone a Londra che stanno entrando ma sono in formazione. Sono top manager di una grandissima azienda che sono dentro dei Business Angels Club che ovviamente ragionano a deal flow tradizionale, cioè al processo di selezione di un investimento in modo normale. E giustamente se vogliono massimizzare il loro tempo il processo darwiniano è il più perfetto, no? Io prendo a un certo livello in un certo stadio, investo lì e poi porto al secondo stadio. Ma non è quello l'obiettivo. Un altro studente che per esempio ha fatto un progetto bellissimo, il primo parco di riciclo italiano. Marco Mangione che adesso sta prendendo tutta l'Academy Starboost e la sta declinando su un'Academy Starboost dentro i parchi specializzata in Circular Economy. Ecco questo è una delle cose che mi fanno continuare a investire in Italia, cioè trovare delle persone che comprendendo quello che è il contenuto, che ovviamente devi avere un minimo di conoscenze se no non sai cosa ti sto raccontando. Quindi quando io vedo Marco Mangione che con il suo progetto di parco del riciclo in realtà va a integrare dei contenuti formativi che ovviamente danno valore a quel parco, perché dentro un parco se non ci metti dei contenuti di altissimo livello diciamo non è che riescono in qualche modo a essere ripopolati da soli, ma allo stesso tempo insegnare il riciclo attraverso un processo di generazione di economia, perché poi la Starboost Academy insegna quello, dentro a questo parco tematico a quel punto lì ha il massimo, perché vuol dire che lui non solo è uno studente ma diventerà docente e azionista a Starboost, perché ovviamente Starboost è a sua disposizione per dargli le quote della società, perché? Perché chi insegna Starboost diventa azionista a Starboost e ovviamente partecipa alle aziende che Starboost ha in pancia, perché? Perché poi allo stesso tempo Starboost è una holding di partecipazione con in pancia delle aziende che prima o poi diventeranno di valore, perché le start up danno un contributo volontario a quello che secondo loro vale l'infrastruttura legale, strategica che noi gli diamo a disposizione. Uno dei progetti di Starboost molto bello che diciamo abbiamo aiutato a crescere fin dalla nascita è stato Mai Visto, Mai Visto è una storia abbastanza triste, però allo stesso tempo è una storia di imprenditoria abbastanza visionaria di una persona che purtroppo ci ha lasciato, si chiamava Paolo Tenna. Noi siamo messi in contatto con lui fin dall'inizio dove aveva bisogno di sviluppare un progetto, non è venuto dall'Academy ma è venuto direttamente nel Company Creator perché aveva già creato l'azienda. Aveva bisogno di una mano a svilupparla, gli abbiamo dato una mano a livello strategico, di sviluppo, tecnologico e di creazione di un team per poter fare il passaggio successivo. Oltre a quello l'abbiamo finanziato con un round di investimento e poi dopo siamo riusciti, grazie anche a nostra rete e anche uno dei nostri soci, a farlo finanziare anche dal club degli investitori e da persone estremamente importanti e rilevanti. Tale per cui abbiamo appena approvato un altro aumento di capitale per poterlo espandere, per farlo sviluppare. Questa azienda è un'azienda che ovviamente all'inizio aveva una bellissima intuizione ma aveva bisogno di struttura strategica, organizzativa e finanziaria che abbiamo cercato in un qualche modo di dare. Purtroppo Paolo ci ha lasciato, adesso l'amministratore delegato si chiama Claudio Ramonda e Claudio Ramonda sta portando avanti l'azienda coinvolgendo tante persone del network e ovviamente portando dei risultati importanti. Infatti mai visto? Ha mandato in onda la televisione, non so se conoscete lo spot di Maestri Bin Rai, piuttosto che altri spot importanti e sta iniziando a crescere e scalare. Un'altra azienda molto interessante si chiama Gole, Gole.it è un'azienda che permette a tutte le squadre di calcio di lettantistiche di creare una gestione della squadra intelligente e di avere accesso a dei sistemi di monetizzazione per aiutarli a monetizzare anche i loro asset e le loro opportunità. Gole.it è il presidente, si chiama Felice Biancardi, l'amministratore delegato, il team leader si chiama Tommaso Guerra, è un'azienda che abbiamo aiutato nel processo di crescita e sviluppo per poter mettere all'interno anche lì dei soci finanziatori e ovviamente nell'aiutarla a crescere. La cosa meravigliosa è la storia di Gole, che poi sarà anche quella probabilmente di mai visto, è che gli stessi manager poi hanno sviluppato un'academy sullo sport. Quindi gli stessi manager di Gole hanno sviluppato l'academy Starboost nell'ultimo anno a Milano, lavorando insieme in partnership con Impact Hub per creare i presupposti per il quale le persone che vogliono lavorare nell'ambito dello sport e quindi avere idee nell'ambito dello sport, possano trovare loro come punto di riferimento per un'accelerazione, un test e validazione sul mercato delle loro iniziative perché hanno decine, anzi centinaia di clienti nell'ambito delle attività di calcio dilettantistiche e quindi possono essere un acceleratore naturale per delle persone che vogliono svilupparle. Loro essendo Starboost cosa fanno? Aiutano i migliori team a provare a vedere se quella loro azienda va bene prima di in realtà rischiare di bruciare capitali e asset. E poi ovviamente essendo io socio e anche altri soci finanziatori di Gole, magari valutare anche un coinvolgimento con una visione partecipata per quanto riguarda degli investimenti in pre-seed o seed, per queste che magari sono iniziative che possono svilupparsi di più. Una storia altra, incredibile, secondo me molto bella di successo di Starboost è un'azienda che si chiama Anot Music, è un'azienda internazionale basata su Lussemburgo, praticamente crea un marketplace dove tu puoi comprare le royalties dei titoli musicali più importanti. Quindi un titolo di una royalties che non è liquido, cioè non è che tu puoi trasformarlo come il mercato borsistico fa delle imprese in un titolo che puoi comprare e vendere, grazie da Anot diventerà liquido. Adesso si sta per lanciare e diventerà un nuovo mercato completo, come se domani uno inventasse la borsa teoricamente italiana. Questa è la borsa per i titoli nell'ambito musicale. C'è una start-up americana che fa una cosa simile, ovviamente in Europa e nel mercato internazionale e locale non esiste niente di tutto ciò, Anot cerca di fare questo. Noi l'abbiamo aiutata a creare e migliorare l'elevator pitch nell'integrazione di alcuni soci finanziatori e nell'accelerazione di questa impresa anche per quanto riguarda settori diversi. E qui aggiungo quello che noi facciamo, speciale, che è un gruppo di lavoro, quindi un gruppo di lavoro interno a Starboost, come fosse l'Academy, il Company Creator e Star City, si chiama StarXLN. Che cos'è StarXLN? È una società che prende l'asset di Anot e lo trasforma per farlo diventare un asset per un'altra società. Quindi il matrimonio di Anot insieme al produttore di film, si chiama Andrea, che crea film, sta per creare una nuova società che svilupperà un marketplace nell'ambito dei titoli di royalties dei prodotti cinematografici, dove anche mai visto è all'interno dell'equity plan. E a questo punto, se tu vedi, Starboost, l'ecosistema Starboost con i notai, i commercialisti, gli avvocati garantiscono le parti per far sì che questi progetti abbiano una struttura molto solida, strategica, organizzata per poter passare le fasi di test, validazione e finanziamento non come avviene normalmente, 12-18 mesi di sofferenze per gli imprenditori che teoricamente gli fanno bruciare capitali a tempo, ma in maniera più teoricamente semplice e anche più serena. Invece in questo caso tu riesci a creare da una start-up che comunque, secondo me, è una start-up veramente bella, che abbiamo finanziato e abbiamo aiutato, che ha Not Music insieme a un'altra che abbiamo aiutato e finanziato mai visto, nello sviluppare un progetto su un mercato che potenzialmente darà linfa e darà forza a quello che è il mercato cinematografico per sviluppare nuovi titoli, sviluppare un'internazionalizzazione dei titoli, magari anche italiani, che sono belli. Quindi per chi volesse partecipare, paradossalmente questa è un'azienda in fase di creazione. Quindi noi in Team Creation apriamo la possibilità da tutto il network per dire volete giocare a questo gioco, a questo contributo? Siete regolati da un notai, avvocati, commercialisti, star boost, sono super allineati. Se volete dare un contributo, il team leader è a disposizione per poter integrare l'interno di un team, perché sa che lo 0,1% di quell'impresa è di più del 100% di un'impresa che prova male o dove magari è da solo. Perché bisogna vedere cosa sta dietro al velo dello storytelling sbagliato che noi stiamo continuando a portare avanti con un'iterazione che ormai nel 2020 non è più, non è più né accettabile né più condivisibile. Planet è uno dei progetti che ho avuto la fortuna di cofinanziare e cofondare. La storia di Planet è meravigliosa perché ho incontrato un mio caro amico adesso, si chiama Gianni Savio e Marco Savio, suo fratello e Susanna Marchionni, grazie anche a un mio socio carissimo che mi ha proposto e presentato questo progetto si chiamava Gigi Calleri. La cosa bella è che mi ha fatto vedere questa visione di costruire una Smart City in Brasile. La prima volta che ho visto questo progetto in realtà io sono rimasto stupito della sua visione e della bellezza dell'idea perché mi sembrava quasi fantascienza poter partecipare a un progetto come questo. Poi dopo la prima impressione ho iniziato a ragionare su cosa avrei potuto dare come contributo e in realtà che questa cosa era veramente possibile e realizzabile se ci mettevamo tutti insieme. E allora a quel punto ho deciso di lanciarmi in questa sfida insieme a loro finanziando l'impresa e dando tutto quel che potevo fare a livello di capacità, di intellettualità e di progettualità per far sì che queste città potessero diventare la culla di quello che è secondo me un progetto di Smart City del futuro. Quindi dove l'accesso alla conoscenza, l'accesso al know-how, la possibilità di lavorare insieme e la creazione di una microeconomia che non è più solo come con Starboost di impresa ma diventa di quartiere o diventa di città in una visione ancora più ampia che era quella di Gianni Savio poteva permettere di creare. Ecco questa storia meravigliosa ci ha permesso di iniziare ad aggregare altri soci, infatti poi siamo arrivati a oltre 250 soci fino ad avere la fortuna di avere anche soci molto importanti che adesso hanno preso in mano il progetto e lo stanno ovviamente sviluppando su scala internazionale. Da una piccola cittadina di 25.000 persone che volevamo fare in Brasile vicino a Croata, il progetto è diventato un'iniziativa di oltre 30 Smart Cities nel mondo con ovviamente tutto un competence center a Torino che sviluppa progetti di real estate e ovviamente per quanto riguarda i quartieri di social housing a Milano, in Italia e in giro per l'Europa. Ecco è una delle iniziative che teoricamente è stata possibile proprio grazie al team, grazie al lavoro di squadra e grazie a uno sforzo che ovviamente ha visto tutti da un certo punto di vista rischiare, ma adesso possiamo dire che stiamo quasi per scalare davvero. La riflessione se è venuta prima l'anima e l'impresa oppure l'impresa e l'anima in realtà è proprio una cosa che ho scoperto crescendo e comprendendo che il sistema in cui vivevo non era progettato per me come essere umano e quindi devo dirti la verità, è nata prima l'impresa e poi è sbocciata l'anima. Cosa significa questo? Che l'anima c'era sempre perché comunque bene o male c'era e mi muoveva perché tutte le scelte che ho fatto erano creative nello sviluppare, nel portare quello che dentro avevo fuori. Ma quando poi l'anima ha iniziato a farmi capire che c'era qualcosa di più che era il collegamento fra la mia anima e quella degli altri per poter in realtà completarla perché se no non si riusciva a davvero evolverla e farla crescere, è successo che tutto il mio background e la mia esperienza ha iniziato a avere un filo conduttore che mi ha portato ad avere la risposta collegando la teoria filosofica, matematica finanziaria a codice civile, l'economia attuale, la borsa e la formazione di questo mondo. E quindi questa integrazione che mi ha permesso di fare quel passo è stato un percorso che da un certo punto di vista sto cercando di insegnare agli altri perché? Perché solo quando tu vivi il fatto che l'impresa che tu volevi creare raggiunge il successo, che in realtà completa il tuo fabbisogno finanziario e monetario, a quel punto lì inizia più facilmente a nascere l'esigenza di andare oltre perché a tutti gli effetti e con tutta l'onestà del mondo quando io ero all'università avevo paura di non arrivare a fine mese e quella paura non mi permetteva di essere felice, di vivere bene e di potermi permettere di dare e di evolvere con la stessa velocità in cui oggi posso permettermi perché so che a fine mese arrivo, ho un tetto sulla testa e posso mangiare. Ma quello che mi fa stare male è che tante altre persone non ce l'hanno e invece hanno dei carismi che se fossero in qualche modo connessi in un disegno sociale e economico globale, quindi sia global che internazionale, fatto meglio perché poi alla fine sono un designer, purtroppo la formazione mi rimane sempre quella, potrebbero sviluppare sicuramente delle cose che in realtà al momento bisogna fargliele prima a vivere, quindi l'Academy Starboost ti dà gli strumenti per arrivare a fine mese lavorando insieme agli altri e mettendo il primo layer, come dice un po' Maslow nei bisogni, ma in realtà ti mette come la Montessori, come la scuola montessoriana piuttosto che tutti i nostri principi diciamo di evoluzione di un certo tipo, il germe del fatto che quando ti capiterà quello tu sei già pronto a non prenderti la botta in testa, sono andato a creare le attività internazionali, sono andato in America, sono andato un investitore e poi alla fine sono riuscito con alcune di quelle imprese a sviluppare quella redditività che mi permetteva di non avere quella paura e poi dopo ti vengono le grandi domande, noi ci dobbiamo preparare a quelle grandi domande e il concetto di fare i soldi e poi fare le fondazioni e fare filantropia che tutti noi oggi osaniamo è sbagliato, non esiste il profit e il no profit, non esiste, questa è una dicotomia, è la stessa cosa, siamo noi, questo dobbiamo iniziare a ragionare, poi come noi in realtà cambieremo questa struttura socio economica non lo so, io so che dovevo fare un piccolo pezzo che era quello di agganciare la finanza a valori e a filosofie strategiche che permettevano a un sistema che sta andando contro a un palo a girare più in fretta possibile, perché quello era il mio obiettivo, il mio obiettivo era come faccio a creare uno sterzo così forte che permetta alla macchina di girare prima che vada contro. Io tutta la mia vita l'ho dedicata non all'imprenditoriale di successo, l'ho dedicata a la sperimentazione, la creatività, la visione, non per niente faccio l'evangelist di lavoro, se tu devi assumermi, assumi come evangelist, cioè strutturamente progetti a medio e lungo termine. Il messaggio che darei ai giovani, però in realtà direi anche non solo loro, perché anche quelli della mia età e anche quelli più anziani hanno bisogno probabilmente dello stesso messaggio, è di non avere soffitti di vetro, né per quanto riguarda il loro cuore né per quanto riguarda la loro mente, che cerchino di andare oltre, che cerchino di capire che quel pezzo di carne che teoricamente li muove prima o poi si spegnerà e che c'è qualcos'altro. E quel qualcos'altro lo puoi sviluppare attraverso l'aiutare gli altri a esprimere i loro talenti. Questo è il grande segreto di Starboost, aiutare gli altri a esprimere i loro talenti in modo tale che tu possa esprimerti e trovare il tuo posto nel mondo, perché la scintilla che in realtà ti muove non è costante, ma cambia continuamente. E nella nostra realtà, nella nostra società, nel nostro mondo noi dobbiamo avere meno paura e dobbiamo lasciare andare con un'apertura anche finanziaria, anche societaria, al nostro flusso teoricamente di creatività e di sviluppo di fluire, perché noi siamo ingessati. Io ci ho messo 16 anni a portare dentro ai Politecnici, dentro alle università questi contenuti ed era la stessa cosa che dicevo 16 anni fa. Ci ho messo 13 anni ad avere la libertà economica, di poter investire negli altri ed era la cosa per cui ho fondato myminus.org nel 2008 per raccogliere quel capitale da reinvestire sui giovani creativi. Guardate la storia di un uomo per capire dove arriverà, perché quella è la coerenza che in realtà noi abbiamo bisogno in questo paese, la coerenza, perché la fiducia era la cosa che in realtà valeva nell'ultimo secolo. Adesso qualcosa che vale ancora di più è la coerenza di pensiero, di obiettivi e di lavoro. Quindi ai giovani e meno giovani gli dico non mettete limite al vostro cervello, perché il capitale è solamente uno strumento. Noi siamo un generatore di capitali che la Fed e piuttosto che le banche europee non potranno mai uguagliare. Quindi le manovre economiche e il modello in cui noi stessi viviamo è assolutamente obsoleto. Noi stampiamo moneta tutti i giorni della nostra vita nel momento stesso in cui ci svegliamo e in cui creiamo valori insieme ad altri. Starboost insegna e trasmette questi valori facendo sì che l'economia diventa un vettore di conoscenze e di potenzialità dell'essere umano e non uno strumento di teoricamente controllo e gestione. È il contrario. L'economia deve diventare il mezzo per essere un messaggio. Questo è quello che direi ai giovani, ma soprattutto ai meno giovani. Perché lo voglio dire ai meno giovani. Ma il problema non è me. Il problema sono i nuovi me che adesso hanno 20 anni e che noi in qualche modo stiamo cercando di aiutare con dei modelli e degli strumenti che non sono giusti per loro. Perché loro non hanno il problema mio. Io ho dovuto fare la gavetta e mi hanno dovuto insegnare a fare delle cose che erano già obsolete nel giorno stesso in cui io mi sono laureato. Quindi a queste nuove generazioni non gli facciamo fare per favore quello che ho dovuto fare io. Perché se no non andiamo da nessuna parte. Perché quello che l'ultima cosa deve fare Starboost è un'altra cosa ancora. Se noi aspettiamo la finanza che decide di investire in aziende di impatto sociale e sostenibili, noi non riusciamo a invertire la curva dell'accelerazione del cambiamento delle imprese che stanno distruggendo l'ecosistema, la flora, la fauna e il nostro mondo. Perché Starboost è stata progettata nel 2015 proprio per andare ad accelerare la rinascita di nuove imprese a livello globale che andavano a sostituire le imprese che in realtà stanno inquinando e creando problematiche perché non si basa sul capitale finanziario che ha delle logiche di investimento ovviamente non utilizzabili per una crisi globale, sistemica, soprattutto ambientale che ha bisogno di un impatto istantaneo non di parole ma di fatti. Quindi o cambi lo stesso DNA col quale la società viene a creare, sviluppare e a creare opportunità alternative di scelta o se no noi implodiamo. Ma implodiamo come paese stesso perché noi abbiamo solo una startup e solo un progetto che si chiama Terra.